Nelle menzioni torniamo a parlare di trattamenti fitosanitari, perché abbiamo qualche cosa di innovativo. Assolutamente sì. L'innovazione è stata quella di mettere a punto un sistema che non fosse destinato a una macchina nuova, ma fosse un sistema da poter montare anche su tutte le macchine già esistenti per ridurre drasticamente quelli che sono i consumi di acqua e di prodotti fitosanitari. Abbiamo fatto questo lavoro con l'Università di Torino. È nato un kit che serve appunto come aggiornamento tecnico proiettando quelle che sono le caratteristiche di atomizzatori magari già con qualche anno di vita a prestazioni da astronave, perché praticamente vengono montati alcuni dei sistemi più moderni di regolazione e controllo dell'errorazione su un kit che viene montato su macchine già esistenti. Questo direi che è molto importante perché il parco macchine ha le sue lacune, voglio dire ci sono macchine che hanno degli anni che continuano a lavorare, non abbiamo tutte macchine nuove di pacca, come si dice in gergo popolare, perciò un'attenzione molto interessante. È vero, si calcola che secondo i dati dell'Ipse del 2022 il parco macchine attualmente utilizzato nel vignetto in Europa è di 1.400.000 macchine, di cui 500.000 solo in Italia. E ovviamente sono macchine che sono nate con criteri di alcuni anni fa. La tecnica ha fatto dei progressi incredibili negli ultimi 3-4 anni e è veramente un peccato, oltre a un danno per l'ambiente, dove rottamare delle macchine che sono ancora efficienti, quando le si potrebbe riportare a un livello di efficienza molto elevato, semplicemente aggiornandole. Questo kit è stato messo a punto dall'Università di Torino assieme al sottoscritto e i risultati dello scorso anno su un'azienda del consorzio della Barbera d'Asti sono stati di una diminuzione del prodotto erogato del 73%. Voglio dire, numeri molto importanti. Velocemente ha citato un Ateneo importante, Torino come Università. Come avete collaborato? Benissimo, perché diciamo che Torino mi ha chiamato nel 2015, subito dopo l'Expo di Milano, dove io ero stato relatore in uno dei convegni ufficiali dell'Expo. erano molto interessati alle cose che facevo per l'agricoltura di precisione e da allora mi hanno aggregato a quello che è il loro gruppo di studio, un gruppo molto forte che spazia dai trattamenti alla meccatronica, ai trattamenti dei reflui. Quindi è un'università dove ci sono molti soggetti che sono ben consolidati e che operano su settori differenti e con i quali attualmente sto lavorando molto bene con tutte le varie branche.